Ciao ragazzi, in questo video risolviamo un esercizio su un'equazione differenziale del secondo ordine. In particolare risolviamo il problema di Cauchy y'-2y'-15y uguale a 0 con i dati iniziali y0 uguale a meno 2 e y' in 0 uguale a 2. Osserviamo che questa è un'equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti costanti. Per risolvere questo tipo di problemi di Cauchy dobbiamo per prima cosa calcolare tutte le soluzioni dell'equazione differenziale omogenea risolvendo l'equazione caratteristica. Dopodiché andiamo a determinare la soluzione del problema di Cauchy usando i dati iniziali. Cominciamo quindi con lo studio dell'equazione differenziale omogenea y'-2y'-15y uguale a 0 e andiamo per prima cosa a scrivere l'equazione caratteristica che è λ²-2λ-15 uguale a 0. Vedete, da y' secondo ritroviamo λ². Da meno 2y' troviamo il meno 2λ e infine da meno 15y scriviamo meno 15. Risolviamo l'equazione di secondo grado con la formula risolutiva. E quindi abbiamo 2 più o meno la radice del Δ che in questo caso è 4 più 60 tutto fratto 2. Osserviamo quindi che siamo nel caso di un Δ positivo e in particolare abbiamo 2 più o meno radice di 64 fratto 2. Radice di 64 è uguale a 8 e otteniamo perciò 2 più o meno 8 fratto 2 da cui le due soluzioni reali che sono 2 meno 8 fratto 2 cioè meno 3 e 2 più 8 fratto 2 cioè 5. Avendo trovato queste due soluzioni reali dell'equazione caratteristica possiamo concludere che le soluzioni dell'equazione differenziale omogenea che stiamo studiando sono una combinazione lineare di funzioni esponenziali in cui all'esponente utilizziamo questi coefficienti meno 3 e 5 e abbiamo in particolare che la soluzione è y di x uguale a c1 per e alla meno 3x più c2 e alla 5x dove c1 e c2 sono due costanti reali qualsiasi. A questo punto andiamo a risolvere il problema di Cauchy in cui avevamo come dati iniziali y0 uguale meno 2 e y primo 0 uguale a 2. Riscriviamoci qui per comodità la soluzione dell'equazione differenziale y di x e calcoliamo nella derivata. Abbiamo che y primo è uguale a meno 3 per c1 e alla meno 3x, vedete abbiamo svolto semplicemente la derivata di e alla meno 3x, più 5 per c2 e alla 5x. A questo punto possiamo usare i dati iniziali per risolvere il problema di Cauchy e in particolare dal fatto che y0 è uguale a meno 2 otteniamo che c1 e alla 0 più c2 e alla 0, cioè la soluzione valutata in 0, è uguale a meno 2. Analogamente, utilizzando il dato iniziale riferito alla derivata, abbiamo che meno 3c1 per e alla 0 più 5c2 e alla 0 deve essere uguale a 2. Mettiamo a sistema queste due condizioni e ricordiamoci che e alla 0 è uguale a 1. Abbiamo perciò ottenuto il sistema lineare c1 più c2 uguale a meno 2 e meno 3c1 più 5c2 è uguale a 2. Risolviamo questo sistema per determinare le costanti reali c1 e c2 che ci permetteranno di scrivere la soluzione del problema di Cauchy. Isoliamo c1 nella prima equazione e otteniamo che c1 è uguale a meno 2 meno c2. Sostituiamo nella seconda equazione ottenendo meno 3 per meno 2 meno c2 più 5c2 uguale a 2. Svolgiamo questo semplice conto ottenendo meno 3 per meno 2 più 6, poi meno 3 per meno c2 più 3c2 e infine copiamo più 5c2 uguale a 2. Dalla seconda equazione otteniamo che 8c2 deve essere uguale a meno 4. Riscriviamo sempre la prima equazione c1 uguale a meno 2 meno c2. Ora possiamo concludere lo studio del sistema. Abbiamo dalla seconda equazione che c2 è uguale a meno un mezzo e quindi sostituendo nella prima equazione c1 è uguale a meno 2 più un mezzo, cioè c1 è uguale a meno 3 mezzi. A questo punto andiamo a concludere il problema di Cauchy. Infatti, ricordandoci che le soluzioni dell'equazione differenziale omogenea sono y uguale a c1 e alla meno 3x più c2 e alla 5x, andiamo a sostituire c1 e c2 rispettivamente, ottenendo che la soluzione del problema di Cauchy è y di x uguale a meno 3 mezzi e alla meno 3x meno un mezzo e alla 5x. Questo conclude l'esercizio. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire come risolvere i problemi di Cauchy con equazioni differenziali del secondo ordine, nel caso di un delta maggiore di 0. Continuate a seguire i video di questo canale, mettete il mi piace e iscrivetevi. A presto!